Per commentare questo pareggio che ti fa contento quanto? Non tanto perché è un pareggio che secondo me ci sta stretto per le occasioni che abbiamo creato tra primo e secondo tempo. Abbiamo sofferto un po' le loro ripartenze, loro praticamente facevano solo quello, aspettavano un nostro errore per poi ripartire in contropiede, però è un pareggio che ci sta un po' stretto. Hai detto che loro aspettavano i nostri errori per ripartire in contropiede, nei primi 20 minuti ne avete fatti troppi, perché? Non so dirti il perché, però sicuramente abbiamo sbagliato un po' troppo all'inizio dove abbiamo preso anche gol, sicuramente sarà una cosa su cui dovremo lavorare. Stasera il Pescara è riuscito anche a verticalizzare poco per l'area di rigore avversaria, quello che chiede soprattutto a te Zeman un tocco massimo due andare in verticale, ti è mancato il tempo della giocata? Non so, l'Ancona è una squadra che gioca molto stretta, si difendono sempre sotto la linea della palla, quindi non era facilissimo trovare sempre la giocata centrale, visto che poi era quello che aspettavano loro, ovvero intercettare la palla e ripartire. Quindi ho evitato di rischiare spesso la giocata e magari andare verso l'esterno. Si è quasi chiuso il girone d'andata Nicolò, manca la partita di sabato prossimo con la Fermana, sei contento? Quanto di questa tua stagione in maglia bianca azzurra? Impreziosita forse da quella perla, se non ricordo male, con il gubbio? Il gubbio sì. Ma sono contento perché sono contento in primis di essere arrivato qua a Pescara, che è una società importantissima, sono contento che comunque sono riuscito a ritagliare il mio spazio, ma sono consapevole che posso dare molto di più e cercherò di farlo partita dopo partita. Abbiamo l'auricolare a Nicolò Squizzato che vi ascolta per una domanda da studio, eccolo. Sì, buonasera Nicolò, domanda di Fabio Ferraresi. Buonasera. No, io prima dicevo che oggi forse abbiamo sofferto qualcosina perché ci siamo un attimo allungati e tu chiaramente sei stato quello che ha subito un po' di più questo fatto, perché dovendo spesso uscire in avanti hai perso qualcosina di lucidità quando avevi la palla, non so se sei d'accordo. Sì, è quello che ci chiede sempre al mister, di correre sempre in avanti invece che correre indietro è sempre meglio correre in avanti, quindi ovviamente se uscendo sempre sul play loro dopo un po' è normale che manchi un po' di lucidità. Grazie.